Cuori nero azzurri, un buon pomeriggio dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano da Roberto Scharpini pronti per accogliere l'ingresso in campo delle formazioni della nostra Inter e della SPAL Inizia la gara, chiama la palla a Asabello, il pallone fra le linee, ancora per Dalbert, va sul fondo il cross, attenzione, palla che rimane lì, Gio Mario il tiro, alto, sopra la traversa Petagna, capocannoniere della SPAL, 10 gol adattivo per lui, 5 per Curti, c'è poi il vuoto alle spalle di questa coppia Fares tenta addirittura il tiro, va nello specchio, Samir per non correre pericoli, ci mette le manone c'è la testa di Gagliardini che in due tempi intercetta bene un pallone, Politano in corsia, buona per Cedric cross immediato a centro aria, Lautaro, arriva bene in volé Missiroli, cerca di andare al cross chiuso, allora l'indietro per Vicari, bravo, metterla di prima per Bonifazi che la mette al centro a cercare Petagna, che la gira bene di testa con il pallone che termina a lato Gio Mario riceve, scambia ancora col piccolo, Cedric, palla dentro, attenzione, Lautaro! Anticipa ancora una volta bene, prova generale del gol Schiattarella, palla alta, cercare Missiroli, recupera Gagliardini, Asamoah, protegge questo pallone Prova a metterla dentro, Lautaro, salta l'uomo, il tiro! E' gol! 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 dice che il gol viene annullato annullato perché viene petto poi braccio petto poi braccio il pallone dentro petto poi braccio petto poi braccio e quindi viene annullato annullato il gol Sedriche Politano parte Politano palla a giro altissima Curtice dell'angolo l'ultima azione sono passati 5 di recupero palla dentro il colpo di testa l'abitro dice che si va ai box con il parziale di 0-0 tra Inter e Spal la palla buona per Lautaro finta contro finta cerca pallone dentro Politano è gol! 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 Poni! 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 al 22esimo della ripresa controllo e tiro Viviano è bruciato e finalmente arriva il gol dell'1-0 Politano quarto gol stagionale per lui Inter 1 Spal 0 bene così ragazzi adesso chiudiamola pallone per Candreva cross calibrato al centro dell'area c'è un atterramento di Gagliardini in aria Sedriche un rimpallo è gol! è gol! è gol! è gol! è gol! il Leone! il Leone! terzo gol stagionale per Gagliardini terzo gol stagionale per Gagliardini 2-0 Inter tiro forte, preciso e angolato niente da fare per Viviano la rincorsa di Dalbert palla dentro Gagliardini anticipato ancora D'Albert che la può controllare alza la testa cross al centro Gagliardini di testa Viviano palla a giro con Samir che la fa sua e l'abito dice che basta così l'Inter batte la spalla 2-0 0-0